È un progetto finanziato con i fondi europei, questo è molto importante già sottolinearlo perché sono stati finanziati solo 8 fondi sullo sport, il programma si chiama Erasmus Plus, quello dello sport, e di questi 8 uno italiano siamo noi. Saranno coinvolti ragazzi di 15 stati europei che verranno quindi da fare una competizione, una sorta di giochi senza frontiere con il beach golf, ma dietro c'è tanto di più, c'è tutto il progetto contro il bullismo. È molto molto in questo momento lungo da spiegare, ma la verità è che questa è l'unica campagna contro il bullismo finanziato dalla comunità europea con questa linea di sport. Saremo alla prora perché è lì che creeremo il nostro villaggio, sarà un villaggio anche notturna, infatti i giochi dureranno fino a circa mezzanotte e aspettiamo chiaramente le persone che vengono perché è un villaggio pene aperto ed è lì forse dove ci potrebbero essere quegli approfondimenti riguardanti il bullismo. C'è l'Università dell'Aquila, c'è il liceo Galileo Galilei, così come ci sono 15 università di scienze motorie europee, perché a rappresentare ognuna degli stati partecipanti c'è una facoltà di scienze motorie. Sono venuti degli insegnanti, dei professori, quindi scienze motorie già qui in Abruzzo per fare un corso di formazione, sono tornati nelle loro nazioni e hanno attivato un processo all'interno delle ore di educazione fisica nelle scuole superiori, dove hanno selezionato questi ragazzi e dove hanno poi mandato delle informazioni al team di psicologi che qui sta gestendo tutta l'operazione contro il bullismo.